Bussa la primavera. Marzo è il mese della primavera, con l'equinozio che cade generalmente il 21 marzo. Arrivano i primi raggi di sole e le giornate diventano sempre più lunghe. Si sente nell'aria il profumo di fiori che spuntano nei prati e sugli alberi per diventare dei gustosi frutti durante l'estate. Questi segnali invogliano gli animali a mettere il muso fuori dalla tana e a svegliarsi dopo un lungo letargo durato per tutto l'inverno. Ricordiamo per esempio l'orso, il ghiro, il riccio, i rettili e gli anfibi. E ritornano anche gli uccelli migratori. Si alleggeriscono gli indumenti, si ripongono negli armadi i cappotti pesanti e si sostituiscono con vestiti più leggeri. E si ritorna tutti insieme a giocare fuori all'aria aperta. Grazie. 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 Grazie.